... Puoi tu, Francesco, prendere per tua legittima sposa la qui presente Chiara per amarla, onorarla e rispettarla in salute e malattia e ricchezza e povertà affinché morte non vi separi Lo voglio Puoi tu, Chiara, prendere per tuo legittimo sposo il qui presente Francesco per amarlo, onorarlo e rispettarlo affinché morte non vi separi Non Non Il a s'tapete, inchervi è al moro Non Non Il a s'tapete ne ha un'dose Grazie a tutti Grazie a tutti